Carissimi amici e devoti dell'incoronata, anche quest'anno l'appuntamento si rinnova. Oggi, sabato 24 febbraio 2018, iniziamo un lungo cammino di preparazione che ci porterà a celebrare la festa della Madonna incoronata nell'ultimo sabato del mese di aprile e mediteremo sul tema Maria, volto dell'eterna giovinezza di Dio. Questa sera presiede l'Eucarestia Don Michele Centola, parroco di Carapelle e di Borgo Libertà. A tutti voi amici all'ascolto, buona preghiera a tutti. A tutti voi amici e di Borgo Libertà. Veneuti d'ogni e parte ciechi mute e struppiate, che li guarisce malea dell'indoronata. Veneuti veglia, veglia, e strada, e strada, che nome ne apri a malea l'incoronata. Veneuti d'ogni e parte ciechi mute e struppiate, ma sopra tutti i trunghi ci stanno belli i rama, ma questa è malea, canteonea. Veneuti d'ogni e parte ciechi mute e struppiate, che li guarisce malea dell'indoronata. Veneuti d'ogni e parte ciechi mute e struppiate, che li guarisce malea dell'indoronata. questa settimana di missione da parte dei nostri sacerdoti e dalle nostre suore di dottorione. Benvenuti e grazie di vivere questo momento bello di vicinanza. Benvenuti a Carabelle, sei a casa! Grazie! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti